L'arte, la tradizione e la cultura di Torre del Greco in una mostra virtuale accessibile a tutti in ogni momento. È lo spirito di Virtuarte Octava, la mostra allestita nei sontuosi spazi di Palazzo Baronale e di Villa Macrina e visitabile online a partire dal 24 dicembre. Qual è la missione in particolare di questo evento? L'evento anzitutto si pone come alternativa a quel momento particolare che stiamo vivendo. È un esperimento che ci permette nello stesso momento di rendere la città planetaria. Virtuarte viene presentata come eccellenza della città, è vero, però nello stesso momento Torre è una città di mare, è una città abituata agli scambi, scambi non solo commerciali ma anche culturali, ospitiamo pure artisti che vengono fuori dal territorio cittadino ma dal territorio regionale. Quanto è importante mantenere viva la tradizione anche in un Natale all'insegna della sobrietà a causa dell'emergenza Covid-19? Torre del Greco è una città come tante del comprensorio vesuviano, quale può essere Ercolano, quale può essere Portici, Torre Annunziata, che da circa dieci anni se non più subiscono un calo demografico. E la cosa, diciamo, è strana perché uno dei motivi di questo calo demografico è quello della mancanza di lavoro. Ma Torre del Greco, proprio grazie alle sue tradizioni, ha il lavoro. Basta parlare del corallo, cioè Torre del Greco è il top a livello mondiale, corallo e camei, ma pure l'arte presepiale e pure un input ai giovani a dire guardate che cosa abbiamo sul territorio. Io invito qualsiasi persona si colleghi al sito della mostra di non vederla una volta, perché questo è il bello della mostra, cioè si deve scoprire poco per volta. Voi immaginate che solamente in Palazzo Baronale, che abbiamo dedicato all'arte presepiale e ai camei, abbiamo qualche cosa come 35 artisti fra le due sezioni. 35 artisti e circa 60-70 opere, ora non ricordo con precisione, dove le devi andare a guardare una per una, scoprire una per una. Cioè il presepio lo vedi tutto assieme, ma poi è bello il particolare, che te lo vai, abbiamo le schede sugli artisti. La partenza è stata la vigilia, comprendendo solo l'arte presepiale a Palazzo Baronale, ma in questi giorni è visitabile anche l'esposizione di Villa Macrina. Tra Natale e Capodanno gli utenti, i torresi e non solo, io spero soprattutto tanti torresi che sono all'estero, ma anche i non torresi, potranno accedere poi a Villa Macrina. Villa Macrina che invece è dedicata all'arte figurativa in genere, in particolar modo scultura e pittura, con due stanze poi dedicate a quelli che sono stati i due grandi artisti della città, Vincenzo Gigiano Borriello e Salvatore Flavio Ratti. Questa esposizione, seppur virtuale, risponde a tutte le aspettative della Prologo, risponde ai nostri scopi, alle nostre finalità. A noi interessa la promozione del territorio, la promozione delle eccellenze locali, la promozione del nostro patrimonio storico-culturale. È un momento che noi a Torre del Greco abbiamo voluto mantenere le tradizioni inalterate, dalle luci natalizie per tutta la città, a quello che è praticamente il proseguo di tutto quello che abbiamo fatto di bello l'anno scorso, con il presepe, il museo all'interno del Palazzo Baronale, ed oggi lo portiamo nelle case dei nostri concittadini con il virtuale. Quindi il presepe, che è un punto fondamentale per il Natale, e le bellezze, quella che è l'arte presepiale dei torresi, degli artisti, noi le manteniamo inalterate e con questa riproduzione virtuale ogni cittadino può ammirare quella che è la tradizione, la lavorazione dei pastori, come si fa un presepe, e di tutti questi artisti che praticamente continuano a vivere questa tradizione con la città di Torre del Greco. Abbiamo ritenuto anche quest'anno di mettere in piedi come amministrazione un cartellone di eventi che avesse quale scopo principale è quello di veicolare l'immagine e le eccellenze della nostra città. Abbiamo ritenuto giusto comunque mettere in vetrina quello che è l'artigianato torrese. Qual è la risposta dei cittadini a questo tipo di manifestazione? Abbiamo avuto un riscontro importante. Relativamente a questa mostra in 3D, è stato eccezionale il lavoro che ha fatto la Prologo, che ci ha affiancato in questa iniziativa. Quindi un ringraziamento va a loro, va ai nostri artigiani che hanno messo a disposizione le loro opere. Un ringraziamento va anche a chi da fuori regione ha voluto comunque riconoscere questo primato culturale della città di Torre del Greco.